Ciao, sono Pierfrancesco Chili, ex pilota di motociclismo, qualcuno forse si ricorda ancora, è un po' di tempo che ho smesso. Mi è stato riscontrato un problemuccio due anni fa, soffro di sindrome di Parkinson, non così evidente, però ho avuto parecchi contatti con diverse persone e mi è stata proposta questa attrezzatura che ho notato che nel tempo mi ha ammorbidito tutti i fasci muscolari cervicali e onestamente mi trovo molto bene, una macchina molto semplice della Angel Wings e diciamo che mi ha dato un beneficio e quindi la consiglio senza nessun tipo di impegno, consiglio che questo movimento sia usufruito anche da altre persone che soffrono di questa malattia. Diciamo che bisogna provarle tutte e poi bisogna avere il coraggio e il temperamento di crederci perché non è che siamo per questa malattia perché siamo poi disabili al 100%, quindi dobbiamo reagire, dobbiamo farci forza e trovare beneficio da quelli che sono gli aiuti che possiamo trovare in giro. Vi voglio dimostrare come funziona, si prendono le due leve, si devono fare 60 ripetizioni con ogni peso che si mette, prima si comincia con i 3 kg, è necessario che le braccia e i polsi siano rivolti verso il davanti e le braccia siano il più indietro possibile appoggiando la testa e poi facendo 60 ripetizioni di questo genere, prima con 3 kg, poi con 5 kg, poi con 7 kg, poi a ritroso, 5 kg di nuovo e 3 kg di per finire. Sembra una cosa stupida, forse non efficace ma ho trovato un grosso beneficio e in più secondo me mi ha aperto le spalle, mi sento molto meglio. Questo è come funziona, io vi auguro a tutti di aver beneficio da questa macchina e di stare bene.